Scusate, professore, che state facendo? E' quello che ha detto lei, stamattina, ha detto porta il paziente a fare il prelivo E l'abbiamo portato Eh, vediamo i soldi, non c'è io Che ti devo dire, la dottoressa così ha detto Eh, un prelievo, stupido Ma mamma, da quanto tempo lavorate con noi voi due? Tre giorni solo Questo è l'ultimo Grazie, gentilissima Da mezzo, andiamo a casa